Amici bentornati sul canale 9000 giri e elaborazioni autosportive. Avete una BMW, in questo caso una BMW 420 e non siete soddisfatti del timbro, del sound e dello scarico? Seguitici sul video così imparerete a qualche cosa di nuovo. Sigla! Ecco qui abbiamo una BMW 420, una macchina diciamo che ci capita abbastanza spesso ma non così spesso come magari le serie 1 o le serie 3. Questa in particolare è una Grand Coupé, una carrozzeria un po' particolare, un po' diversa dalla serie 4 normale. È una macchina, da quello che erano, ne abbiamo già fatte alcune altre di queste vetture, mi ero un po' documentato, è una linea che è stata fatta dalla BMW, da quello che mi sono documentato, è stata fatta in maniera particolare per il mercato cinese. Questa è una cosa che non sapevo e è stata fatta appunto in maniera particolare per quel tipo di mercato perché probabilmente c'è una richiesta di questo tipo di configurazione. Però ne abbiamo viste anche, cioè se ne vedono anche in Italia, magari non così tante come altre versioni o come nelle altre versioni, però comunque ne abbiamo anche, siamo già intervenuti abbastanza spesso anche su questo modello. Qui nello specifico abbiamo realizzato, siamo intervenuti in due parti, uno va bene la parte estetica montando il classico spoilerino posteriore sul baule e quello è la prima cosa. Proseguendo con la parte estetica, stiamo sempre parlando della parte posteriore, andremo a montare un estrattore posteriore, sempre in carbonio, con appunto l'asolatura abbastanza ampia per poter contenere lo scarico duplex a quattro uscite. Quando si parla di duplex significa che da un silenziatore come questo, che è parallelo al paraurti posteriore, escono le uscite destre e sinistre. Può essere un duplex con uscita singola o uscita doppia come in questo caso, quindi qua sono quattro uscite, abbiamo acquistato il kit della Super Sprint. Ecco, giusto per far vedere diciamo le chicche o le cose particolari che poi alla fine una volta montate vengono nascoste, guardate il tipo di finitura o il tipo di link che c'è tra la parte del tubo e questi due copri terminali. Quindi è un lavoro fatto da un'azienda molto grossa però direi sicuramente qua non è stato fatto da una macchina ma è stato fatto da un operatore che manualmente ha montato questi due copri terminali in maniera perfetta, in maniera esattamente calibrata perché poi sono marchiati, sono serigrafati, quindi la serigrafia deve essere perfetta. Ovviamente ci deve essere una differenza in termini di montaggio per cui il copri terminale più esterno è più arretrato rispetto a quello centrale. Questo per andare a seguire quello che è la curvatura del, adesso ve lo faccio vedere magari in maniera un pochino più, ecco, diciamo per poter seguire in maniera perfetta la curvatura del sottoparaurti. Ripeto, sono dei piccoli dettagli ma al lavoro finito fanno una grossissima differenza. Quindi questo è il silenziatore sportivo omologato della Super Sprint che andrà a sostituirsi rispetto a quello originale che è ancora montato in macchina. Purtroppo la macchina è a terra, non riesco a farvelo vedere, però a grosse linee, se questo ha una misura di due spanne e mezzo, quello originale, grossomodo, non dico che il doppio, ma arriverà come, diciamo, conditore del forno assorbente, partirà dai due estremi, per cui è un 60-70% maggiore rispetto a questo. Ovviamente tutto in acciaio inox, questo è il codice del pezzo. Da qui ci andiamo a giuntare con questa brida di chiusura sul tubo centrale, che ovviamente anche in questo caso rispetto all'originale la dimensione è la stessa, però segue una conformazione differente. Quindi questo è un tutto tubo che va a togliere un silenziatore centrale che più o meno è posizionato in questa parte. A questo punto, come abbiamo spesso detto, il lavoro finito fra il tubo centrale e un terminale silenziato crea la rumorosità perfetta. Ecco, arriviamo quindi alla parte, diciamo, questo è un centrale, cioè questo è il tubo centrale e da qui, ecco, più o meno come riferimento sulla macchina, siamo più o meno all'altezza, diciamo, della metà portiera nel lato guida. In questo caso vi abbiamo fatto vedere a terra questo spaccato, questa conformazione del terminale, perché avendo già messo la macchina sul ponte ci siamo accorti di un problema che stiamo cercando di risolvere, nel senso che il punto di raccordo fra il tubo centrale e il tubo anteriore è sbagliato, nel senso che il tubo anteriore purtroppo ha una forma, questo soprattutto per, diciamo, per questa macchina a quattro ruote motrici, per cui per andare a compensare quello che è il differenziale, l'altezza più bassa, hanno schiacciato il tubo, perché il tubo ha una sezione che non è più ovale, ma una sezione schiacciata, e quindi non c'è nessun, come dire, adattatore che sposta il tubo da sezione, diciamo, ellittica a sezione rotonda. Quindi in questo caso abbiamo commissionato alla Super Sprint, che devo dire, oggi pomeriggio ci consegneranno l'alto prezzo, l'alto pezzo, in due o tre giorni ci ha realizzato questo pezzo di accoppiamento, dovremmo farci fare un pezzettino di tubo molto corto, però un pezzettino di tubo specifico, in maniera tale da andare a bypassare il problema e trovarci poi con un accoppiamento tondo-tondo. Chiaramente l'accoppiamento del tubo che andremo a farci fare sarà più piccolo rispetto a questo, si inserirà perfettamente, qua verranno create due tagli, in maniera tale da creare poi una chiusura elastica e il tutto verrà chiuso da una brida di chiusura. Come abbiamo altre volte specificati in altri video, in questo caso, cioè bisogna, quando ci sono dei problemi, diciamo che a volte si creano, lavorando sulle macchine, lavorando sulle modifiche delle vetture, non è così scontato che non ci possano essere dei problemi. Spesso ci sono e la qualità di coloro che poi devono operare riguarda il fatto di poterli risolvere in tempi veloci e soprattutto con una qualità di alto livello. Quindi, come in questo caso, abbiamo dovuto fare riferimento appunto alla ditta che costruisce questo genere di prodotti, dargli un disegno con dei diametri ben precisi. In un tempo, diciamo, l'unica scomodità per il cliente è che non abbiamo potuto consegnare in giornata, ma ci ha dovuto lasciare giù la macchina praticamente tutta la settimana. Oggi arriva il pezzo, montiamo tutto e domani andremo in consegna. Comunque il cliente, l'abbiamo avvertito, sa esattamente questo ritardo nella consegna, da che cosa è dovuto, ha apprezzato il nostro impegno e sicuramente domande gli consegnerò la macchina perfettamente finita. Quindi io direi che anche per questa BMW Serie 4 Gran Coupé e per quanto riguarda la spiegazione di questa linea di Skyco SuperSprint è tutto, come di consueto vi chiediamo di cliccare sulla campanella, mettere un bel like sul video e soprattutto iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Un saluto, alla prossima!